Non ti sei mai fatto sentire? Papà! Che c'è? Ora sei il mio tifoso numero uno? Sei più simile al tuo vecchio di quanto credi. Forse, ma è difficile da dire. Sì. Hai ragione. Sei stato bravo. Eri a tuo agio. È un torneo precampionato. Stai diventando un giocatore notevole, Alex. Ascolta, io... Scusa, ma devo andare adesso. Stasera partiamo per Chicago e voglio farmi un giro prima. Come? In taxi? Non fare lo scemo. Dai. Andiamo. Ehi, guarda un po' questa. Che vista, eh? Quindi, MLS All Star a Chicago. Gara tosta. Ci sono tanti buoni giocatori. Davvero? E tu cosa ne sai? Beh, sai com'è. Impari un paio di cose come osservatore. Lavoro per i Galaxy. Mi sono dovuto guadagnare da vivere. Oltre al calcio non so niente. Credevo che saresti rimasto in Inghilterra dopo l'I-Fake-Up. L'ho fatto. Ero in Inghilterra a caccia di giocatori. Non poteva durare per sempre, giusto? Chi è? Ha solo una ragazza. Nulla di importante. Già, come no? Le cose non sono sempre come sembrano, Alex. Faresti bene a impararlo. È quella per cui ci hai abbandonati. Tutto bene, amore? Sì, certo. Posso richiamarti tra un minuto? Sono al ristorante. Devo pagare. Grazie. Grazie. Grazie.